Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Tantissimi di voi mi hanno chiesto, in questi mesi, sotto i commenti dei miei video, di parlarvi di lei, Leonardo Cianciulli, detta anche la saponificatrice di Correggio. È passata la storia per aver commesso tre crimini, compiuti per davvero con molta freddezza, ma non solo. Leonardo è passata la storia soprattutto per le sue dichiarazioni fatte in tribunale e per il suo memoriale, chiamato Confessione di un'anima amareggiata. Questo libro ha circa 700 pagine ed è una sorta di autobiografia di Leonardo, che per l'appunto ha scritto a seguito della sua condanna. Stampando la sua storia in nero su bianco e riportando in modo davvero molto fedele la descrizione dei crimini dalle compiuti, a dirla tutta esagerando anche non poco. Processo a parte, quel memoriale si basa davvero sulla vita della saponificatrice di Correggio, vista e raccontata però dalla sua prospettiva. Questa è una cosa che bisogna sottolineare. Leonardo ha colpito tra il 1939 e il 1940. Inoltre, è finita in manicomio. Di conseguenza, in questo racconto ci saranno sicuramente dei riferimenti strampalati, riferimenti che però per Leonardo erano del tutto normali. Oppure Leonardo era solo una gran contaballe? Questo non possiamo saperlo, ma emergiamoci nella storia che Leonardo Cianciulli ha voluto raccontare scrivendo di sé ed il suo passato. Leonardo è nata a Montella di Avellino nel 1893. Sostiene di venire concepita seguito di una violenza subita da Emilia di Nolfi. Secondo Leonardo, Emilia è costretta a sposare l'uomo che le ha fatto del male e odierà sempre quella creatura. Nata da un gesto così triste, deplorevole. Leonardo sostiene che sua madre continui a provare rancore anche dopo essere riuscita a divorziare con questo uomo. Per poi risposarsi con Mariano Cianciulli, la cui avrà altri figli. Leonardo è debole, malaticcia ed epilettica. Si presume subisca maltrattamenti da sua madre, mentre i suoi fratelli la trattano male e la isolano completamente. Leonardo quindi tenta per due volte di togliersi la vita impiccandosi, ma entrambi i tentativi non vanno come lei vorrebbe. La prima volta infatti sostiene che l'abbiano soccorsa in tempo per salvarla, mentre la seconda volta le si spezza la fune. Leonardo sostiene che sua madre le ha chiaramente fatto capire quanto le dispiacesse vederla ancora viva. Questo dice Leonardo. Il punto è che la verità è un'altra. Leonardo è l'ultima figlia arrivata di una famiglia di nobili uomini di Montella. Suo padre si chiama Mariano Cianciulli ed è un uomo di campagna, adorabile, affettuoso, oltre ad essere generosissimo. Mentre sua madre in realtà si chiama Serafina di Nolfi, è una nobil donna caparbia, tenace e fredda. Serafina suona l'arpa ed è rimasta vedova da giovanissima. Poi ha conosciuto Mariano e l'ha sposato. Leonardo in effetti non cresce benissimo, pare sia una bambina fragile e malaticcia. Probabilmente soffre di attacchi di epilessia, ma nonostante questo in famiglia regna comunque la serenità. Fino a quando alla porta di casa Cianciulli bussa la morte per portarsi via suo padre, Mariano. A questo punto Leonardo è destinata in sposa ad un suo cugino per volere di sua madre. Lei però si innamora di Raffaele Pansati, un impiegato nel comune di Laurea, in Basilicata. È il 1914 e Leonardo sposa Raffaele. La madre di Leonardo quindi la maledice. Le augura di vivere una vita triste e infelice, vuota. Leonardo e Raffaele si trasferiscono all'Ariano, un paesino dell'Alta Irpinia, sul quale nel 1930 si abbatte un terribile terremoto. Leonardo e Raffaele quindi cadono in miseria e si trasferiscono a Correggio, in Emilia Romagna. Leonardo è ossessionata letteralmente dalla maledizione di sua madre, in quanto fin dal 1918 inizia la sua tragedia personale. Leonardo si è sposata con Raffaele ed è felice, ma nel 1918, la morte, ecco che torna a bussare alla sua porta e si porta via la sua primogenita, Maria Antonietta. Passa poco tempo e tocca a Mario. Passano poche settimane e Leonardo è di nuovo in dolce attesa. Dopo dieci mesi nasce un'altra bambina, ma neanche lei sopravvive. Per Leonardo la morte è un qualcosa di concreto, di reale, con cui ha dovuto fare i conti fin da bambina. Ed è proprio in questo modo che secondo Leonardo la maledizione lanciata da sua madre prende forma. La morte si porta via tutte le sue creature. O quasi. Se ci pensiamo un attimo, questo periodo della vita di Leonardo è un continuo rimanere incinta, generare. Quello per lei appare un bisogno insormontabile, più di qualsiasi altra cosa. Infatti in tutto Leonardo ha avuto 17 gravidanze senza contare gli aborti spontanei. Questo significa che Leonardo Cianciulli in 20 anni ha fatto una sola cosa, rimanere incinta. L'ultima nata, Norma, è del 1937. Di conseguenza, facendo due conti, Leonardo ha sempre avuto una creatura in pancia. Sempre. In ogni caso c'è da dire che la famiglia Pansardi, a Correggio, viene ben accolta. Vanno a vivere in un palazzo, in via Caurundici. E tutto sommato c'è da dire che Leonardo in qualche modo si ingegna, iniziando un commercio di abiti usati. Grazie ai soldi ricavati da Leonardo e al rimborso danni per il terremoto, la coppia inizia di nuovo a star bene economicamente, tanto da potersi permettere una collaboratrice domestica. Però, nonostante tutto, Leonardo continua ad essere ossessionata da quella dannata maledizione di sua madre. E per di più, in questo caso, Leonardo si ricorda anche di altre due occasioni non troppo felici. Infatti, la donna si ricorda che, anni addietro, una gitana le ha fatto una terribile profezia, la cui prima parte recita Ti mariterai? Avrai figlio Lanza, ma tutti moriranno i figli tuoi. E in un'altra occasione, una zinghera, leggendole la mano, le ha detto «Vedo nella tua mano destra il carcere e nella tua mano sinistra il manicomio». Leonardo sa per avere un attacco isterico, non ce la fa più. E quindi chiede l'intervento di una strega locale, che secondo Leonardo riesce a smuovere qualcosa. Perché in seguito, Leonardo riesce a salvare dalla tragica maledizione che le ha lanciato sua madre, quattro figli. Ed è il destino, la vita che Leonardo ha vissuto, che l'ha portata a diventare una madre disposta a togliere di mezzo Chiunque provi a strapparle via quei quattro doni preziosi, ossia i suoi figli. Siamo nel 1937 e Giuseppe, il suo primo genito, è iscritto a lettere all'Università di Milano. Bernardo e Biaggio, invece, frequentano il ginnasio, mentre Norma, la più piccola, va all'asilo delle suore. La guerra è alle porte e Leonardo riceve la cartolina col precetto di leva per Giuseppe. Leonardo ha davvero il terrore di perdere i suoi figli a causa della guerra. Leonardo non può certo impedire la partenza di Giuseppe, ma si ricorda di quella strega della zona che in qualche modo è riuscita a salvarle dei figli. E quindi anche Leonardo si butta a capofitto nella magia, in quanto la donna non può sopportare la perdita di un altro figlio. Non ce la farebbe. Gli incubi la perseguitano tutte le notti. Sono incubi in cui i suoi figli sono tutti in delle bare bianche, che poi vengono inghiottite dalla terra nera. Ecco perché la donna inizia a studiare e a leggere libri che parlano di chiromanzia, astronomia, scongiuri, fatture. E per non farci mancare niente c'è anche lo spiritismo. Leonardo vuole apprendere tutto quanto sui sortilegi, col fine di neutralizzarli. E ben presto anche lei diventa una maga, rinomata nella zona. Fa gli oroscopi, legge le carte, soprattutto ha delle amiche e ha delle donne sole che si arriccono al suo studio magico, che non è nient'altro che casa sua. Leonardo però non dimentica di fare le carte anche per sé stessa, nella speranza di poter conoscere in qualche modo il destino di suo figlio Giuseppe. Arrivano notte e i terribili incubi di Leonardo scompaiono. Magicamente al loro posto, stando a quello che racconta lei, le appare Gesù, che le spiega effettivamente come deve comportarsi. Infatti sono necessari dei sacrifici per salvare i suoi figli, sacrifici carnali per l'esattezza. In pratica, una vita per un'altra vita. E Leonardo quindi cosa fa? Passa a setaccio tutte le sue clienti, fino a quando non trova tre potenziali vittime che fanno al caso suo. Sono tre donne sole, mature e disposte a tutto pur di cambiare la loro vita. Leonardo quindi capisce che quello è il momento di agire. La sua prima vittima si chiama Faustina Setti, una settantenne che ancora non ha perso la speranza di trovare un marito. Infatti si consulta spesso con Leonardo per conoscere il suo destino amoroso. La donna infatti le legge le carte e le promette costantemente che ci sono in arrivo delle novità. Ed è così che in una mattinata di dicembre del 1938, Faustina va dal parrucchiere, si tinge i pochi capelli che le sono rimasti di nero e inoltre si mette un bel rossetto rosso. Faustina racconta a Correggio che va a sistemarsi con un ricco vedovo residente a Pola. Infatti la donna prima di andar via ha venduto casa i mobili. Faustina dice Gli ultimi anni di vita io li voglio passare bene. Si occuperà di tutto la cara Leonardo Cianciulli. Faustina quindi quella mattina di dicembre cammina e va a casa di Leonardo, al civico 11, in via Cavour. Bussa entra in casa e semplicemente scompare. Una volta che Faustina entra in casa Cianciulli, Leonardo si offre di fare del caffè. Poi le suggerisce di scrivere lettere e cartoline per amici e parenti, che poi avrebbe spedito da Pola, nelle quale diceva di stare bene e che tutto stava andando per il meglio. Faustina è mezza analfabeta e quindi, mentre Leonardo la aiuta a scrivere queste lettere e queste cartoline, viene colpita. Faustina infatti non giunge mai a destinazione, non conosce alcun ricco signore. Leonardo Cianciulli la fa fuori, la trascina in uno stanzino dove la seziona, facendo cadere il sangue in un catino. Leonardo nel suo memoriale racconta che ha gettato dei pezzi di carne in una pentola, ha aggiunto 7 kg di soda caustica, che aveva comprato per fare del sapone, e ha rimescolato questa poltiglia per più e più volte. Quando effettivamente si forma una poltiglia bischiosa, Leonardo riempie alcuni secchi di quella poltiglia e poi li svuota nel pozzo. Per quanto riguarda il sangue nel catino, Leonardo sostiene che ha atteso si coagulasse, per poi seccarlo al forno. A quel punto la donna lo ha macinato, mescolando la farina, zucchero, cioccolato, latte e uova. Ci aggiunge anche un pizzico di margarina. Con quell'impasto, Leonardo fa una grande quantità di pasticcini croccanti, che offre alle signore che vengono in visita, ma sostiene di averle mangiate anche lei con suo figlio Bernardo. Qualche giorno dopo, Leonardo, per l'appunto, manda suo figlio Bernardo fino a Pola, col fine di imbucare le lettere della sua vittima, Faustina Setti, per farli giungere ai destinatari col timbro postale esatto. Inoltre, grazie al suo mercato, vende gli indumenti della donna. Passano alcuni anni e Leonardo Cianciulli riesce a manipolare anche Francesca Suavi, una donna che sogna di andare via da correggio. Francesca non spiera nel matrimonio e basterebbe trovare semplicemente un altro impiego. Leonardo le dice di averle trovato un impiego in un collegio femminile a Piacenza. Francesca Suavi è conosciuta in paese come La Clementina, oppure La Maestra, in quanto la donna aiuta una quindicina di ragazzetti a fare i compiti. Francesca è una donna di 50 anni, buona e forse un po' troppo ingenua. Così, la mattina del 5 settembre del 1940, Francesca Suavi decide di dare una svolta alla sua vita e prima di andare via, passa a ringraziare, in via Cavour al Civico 11, Leonardo Cianciulli. Leonardo comincia Francesca, senza troppi sforzi, a scrivere come al solito due cartoline, che avrebbe dovuto imbucare lei stessa da correggio, col fine di annunciare la sua partenza, evitando però di far sapere i vari ficcanaso la sua destinazione. Appena Francesca termina di scrivere quelle cartoline e quelle lettere e posa la penna come da copione, Leonardo la colpisce. Prima di tutto le fruga nelle tasche e le ruba i soldi, per l'esattezza 3.000 lire. E per ricavare ancora più soldi, Leonardo dice in giro che Francesca l'ha incaricata di vendere tutti i suoi beni e tutti i suoi immobili. La sua terza e ultima vittima è un'ex cantante lirica. Ha 59 anni e purtroppo è costretta a vivere in miseria. Si chiama Virginia Cacioppo. Leonardo dice a Virginia che le ha trovato un incarico a Firenze come segretaria per un misterioso dirigente teatrale, che magari avrebbe potuto reintrodurla nell'ambiente. Leonardo però in questo caso chiede a Virginia di non parlarne con nessuno, in quanto il misterioso dirigente teatrale è stato un suo amante. Se si fosse sparsa la voce in giro, la sua famiglia l'avrebbe sicuramente disprezzata. Arriva quindi il 30 settembre del 1940 e per Virginia è tempo di partire. Quella mattina presto è stata proprio dal parrucchiere e in effetti si è lasciata sfuggire qualcosa. Virginia infatti ha detto Parto! Pettinate il mio modo, perché devo fare figura. C'è un posto a Firenze che mi ha procurato la Leonardo Cianciulli. Prima di partire anche Virginia entra in via Cavour nel civico 11, a casa di Leonardo, per ringraziarla. E anche in questo caso non ne esce. Leonardo infatti racconta che anche lei è finita dal pentolone. Sostiene che la sua carne era grassa e bianca e dopo aver aggiunto la soda caustica, questa volta decide anche di aggiungerci della colonia. Solo dopo una lunga bollitura, Leonardo ottiene delle saponette cremose ed accettabili che dà in omaggio a delle vicine e conoscenti. Però la cognata dell'ultima vittima, che si chiama Alberta, alla scomparsa di Virginia Cacioppo, si sospettisce, in quanto sostiene di aver sentito Virginia prima della sua presunta partenza. E lei gli aveva detto che prima di partire sarebbe sicuramente passata proprio dalla signora Cianciulli per ringraziarla. Oltretutto la signora Cianciulli poi si è occupata di vendere la sua casa, i suoi vestiti. La cosa ad Alberta, la cognata di Virginia, proprio puzza. Decide di conseguenza di confessare i suoi sospetti al questore di Reggio Emilia. Il questore a questo punto cosa fa? Segue le tracce di un buono del tesoro di Virginia presentato al banco di San Prospero dal parroco di San Giorgio, a Correggio. A Belardo, quindi, il parroco viene convocato dal questore e non ci mette molto a dirgli che lui, il buono, l'ha ricevuto da Alberto Spinarelli. E qui tutti vi starete chiedendo ma chi è sto Alberto Spinarelli? Ebbene, un ennesimo amico di Leonardo Cianciulli. Alberto Spinarelli sostiene che quel buono del tesoro gliel'ha dato la Cianciulli per salvare un debito. Le tracce, quindi, come marginerete, conducono irrimediabilmente a Leonardo Cianciulli, la quale non ci mette poi così tanto a confessare i suoi tre crimini commessi. La verità, però, è che gli inquirenti non si sfigano come una donna anziana, bassa e corpulenta abbia potuto fare tutto quanto da sola senza l'aiuto di nessuno. Inizialmente le indagini si orientano sul figlio di Leonardo e il 6 giugno del 1941 gli inquirenti ispezionano il pozzo nero che si trova proprio a casa Cianciulli e lì dentro in effetti trovano un pezzo di cranio e poi una dentiera con ancora attaccati 14 denti. Leonardo quindi inizia a parlare con gli inquirenti a confessare che si rendono conto di quanto la donna dia delle versioni davvero confuse. Leonardo lo fa apposta oppure è totalmente pazza? A questo punto l'autorità giudiziaria dispone per la richiesta di perizia psichiatrica su Leonardo e Cianciulli ovviamente prima che il processo abbia inizio. È agosto del 1941 Leonardo per farsi periziare viene spedita a sud Italia arrivando dopo un lungo viaggio al manicomio criminale di Aversa. Leonardo a questo punto parla di squali di muri scrostati e anneriti e di squali de celle da cui provengono urla di ogni genere risate assurde grottesche inquietanti. Il manicomio di Aversa per Leonardo è letteralmente l'inferno dei pazzi. Le guardie che la sorvegliano secondo lei sono proprio diavolesse e poi c'è il capo di queste diavolesse un luminare della scienza psichiatrica il dottor Filippo Saporito. In un primo colloquio il dottore dice a Leonardo deve essere una lettrice di grandi romanzi gialli ditemi qual è quello che vi ha guastato la testa? Leonardo risponde non sono stati libri gialli a insegnarmi ma sono stati libri classici Omero Vergilio e anche la Bibbia ad essere precisa il Nuovo Testamento è proprio così che ho appreso come salvare i miei figli da morte certa sì dottore perché sa sui miei figli pesa davvero un destino crudele essi infatti sono destinati a morire e probabilmente moriranno in guerra Filippo Saporito a questo punto ci rimane di sasso e riconosce che ci sono delle problematiche abbastanza evidenti in Leonardo alla fine durante il processo del 1946 Bernardo suo figlio dice di aver spedito quelle lettere senza però sapere la verità che si celava dietro quelle lettere Leonardo Cianciulli intenzionata a difenderlo con tutte le sue forze propone una dimostrazione alta a far capire che è stata l'unica artefice di quegli assurdi crimini infatti davanti a magistrati e avvocati in soli 12 minuti la Cianciulli senziona il corpo di un vagabondo che è venuto a mancare in ospedale per poi procedere con le tecniche di saporificazione viene quindi condannata a 30 anni di reclusione e a 3 anni di manicomio giudiziario in carcere scrive lavora e cucina biscotti che racconta una suora che l'ha conosciuta nessuna detenuta vuole mangiare temendo ci sia dentro qualcosa di strano di magico o cose del genere Leonardo riceve regolarmente visite dei suoi figli fino a quando il 15 ottobre del 1979 Leonardo viene a mancare nel manicomio femminile di Pozzuoli struncata da apoplessia cerebrale la sua figura di madre misteriosa e letale ha ispirato il film Gran Bullito di Bolognini e uno spettacolo teatrale della Wirtmuller intitolato Amore e magia nella cucina di mamma detto questo ragazzi ho finito di sproloquiare in questo video spero che questo video super richiesto sia stato di vostro gradimento fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate della saponificatrice di Correggio noi ci vediamo prestissimo al prossimo video io vi mando un bacione e mi raccomando continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazzi e ciao ragazze grazie a tutti ciao 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 ciao